Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliore blocco yoga. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Timber Brotter. Quando non capisci come scegliere un eccellente blocco yoga, andare con il servizio più semplice potrebbe essere il miglior suggerimento. In questa situazione sono due blocchi di dimensioni leggermente diverse. Adatti sia per principianti che per esperti, nonché che consentono l'esecuzione di diversi allenamenti. Come ci si aspetterebbe da un articolo di alta qualità. Al numero 4, abbiamo set di blocchi per yoga. A differenza delle altre versioni che abbiamo già fornito nella nostra guida all'acquisto, queste si distinguono per il prodotto 100% tutto naturale con cui sono realizzate. In questa situazione è il sughero che assicura un'eccellente aderenza al terreno e l'assistenza di tutto il peso corporeo. Possono essere utilizzati in vari allenamenti per educare il corpo e aumentare gradualmente la sua flessibilità. Al terzo posto, abbiamo la Lotus Crafts Mattoncini. Tra i blocchi offerti online, questi si attaccano per essere fatti con sughero dal portogallo. La qualifica di origine assicura attenzione alla scelta dei migliori prodotti per la realizzazione della sfida portare con sé durante l'allenamento. Perfetto per l'esercizio fisico, allo stesso modo dando grande importanza all'atmosfera e alle cose con cui confini da solo mentre pratichi l'esercizio yoga. Al numero 2, abbiamo il base Yoga Yoga. Tira blocchi di esercizio yoga ideali del 2020 scopriamo anche queste versioni colorate offerte in numerose versioni per deliziare clienti di gusti diversi. La tonalità melange li differenzia significativamente dai normali blocchi di un singolo colore. Non è un piccolo dettaglio poiché in palestra molti potrebbero averli selezionati identici a tutti gli altri. Per il resto. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Jetflex, Mattonella. Il prodotto che apre la nostra recensione che pensiamo al blocco di esercizi yoga più efficace è quello realizzato da Jetflex per l'allenamento yoga o per il fitness in generale. Il prezzo si riferisce a due blocchi, la coppia è cruciale per l'implementazione di molti allenamenti e di conseguenza è bello riconoscere che è possibile conservare e ottenere uno dei più. Sono costruiti in schiuma ad alto spessore, quindi sono incredibilmente leggeri, tuttavia allo stesso modo solidi e forti. Il mix perfetto per aiutare con il trasporto. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.